E che si mangia oggi? E te lo dico io! Ali di pollo al forno, croccanti, gustose e saporite! Trasferisci le alette di pollo in una ciotola. Aggiungi il sale, il pepe e tutte le spezie e gli aromi di tuo gradimento. Io ho aggiunto aglio, pepe rosa e peperoncino, rosmarino, salvia, all'oro e paprika dolce. Naturalmente puoi aggiungere la paprika piccante, la curcuma, quello che preferisci. Mescola bene e lascia riposare per almeno mezz'ora. Puoi preparare questo condimento anche il giorno prima per il giorno dopo. Aggiungi a questo punto un cucchiaio di fecola di patate o amido di mais e mescola bene il tutto. Trasferisci le alette di pollo su una teglia ricoperta di carta forno bagnata e strizzata. A metà cottura, poi, ricorda di girare le alette per una cottura uniforme. Ed ecco le alette pronte. Croccanti fuori, morbidissime dentro, gustose, saporite e speziate. Perfette per una cena fra amici o in famiglia. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima! Ciao!